La gente non parla più con me, che sono davvero un glock a ver L'amico delle donne, il loro confidente, si parlava sempre di chi non è presente E Franco, com'è andato il matrimonio, Franco Era meglio il funerale, se tutto vuoi sapere, non chiederlo più a me C'è Televideo regionale, tutte notizie vere, di grande utilità Sul Televideo regionale di Rai3 trovi tutto quello che è utile sapere sulla tua città e la tua regione E io che ci sto a fa Televideo regionale di Rai3, quando serve, serve